Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata della nostra trasmissione. Quest'oggi ci occupiamo della jungle di Calais, il luogo dove migliaia di migranti si sono radunati in Francia, è diventata praticamente una città oggetto di uno sgombero molto recentemente della parte sud con anche scontri e azioni violente con la polizia, l'intervento anche della cittadinanza esasperata di una situazione che si protrae ormai da anni. È una zona nel centro dell'Europa che è uno dei luoghi che ci fa più riflettere in questo momento sull'emergenza profughi assieme ai campi di Idomeni in Grecia. Due persone che sono qui del nostro territorio, di Dolo, nel veneziano, appassionati di fotografia, hanno deciso di andare a vedere con i propri occhi e portare a casa un reportage di questa situazione. Sono Stefano Zecco a cui do il benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei. E Alessio Boscolo che tra pochissimo sarà con noi. Come vi è venuta questa idea? Allora, l'idea ha un padre ben preciso che è Alessio fondamentalmente, il quale mi ha chiamato un giorno e mi ha detto ma se vado in un posto vieni con me, però devi rispondermi o sì o no. Io gli ho detto sì e successivamente ci siamo trovati per programmare il viaggio e siamo partiti insieme per questa breve avventura. Beh, successivamente. Prima però le ha detto dove? Qual è stata la sua reazione quando ha sentito la jungle di Calais? Ho qualche anno più di Alessio e quindi sono tendenzialmente più portato a preoccuparmi. Ho sollevato qualche eccezione ma alla fine ci siamo convinti l'un l'altro che valeva la pena di provare a andare a vedere questi posti a rendersi conto di persona del problema e a portare dei reperti fotografici che potessero all'interno del circolo di cui facciamo parte essere motivo di discussione e di formazione. Assolutamente. Noi le foto le stiamo cominciando un po' a vedere anche qui alle nostre spalle. Piano piano entriamo appunto in questo che era una città costituita di baracche, costituita di sporcizio, costituita di buona volontà, di tante situazioni diverse. Che racconto avete portato a casa? Che cosa avete trovato? Allora noi siamo andati a metà marzo appunto quando già erano iniziate le operazioni di sgombero dell'insediamento più famoso dal punto di vista dell'informazione che è The Jungle che è questa appunto baraccopoli posta ai margini della cittadina di Calais dove vivono, dove si fermano i profughi provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente che cercano in tutte le maniere di passare in Inghilterra. Questa baraccopoli in quel periodo lì era soggetta ad un ridimensionamento perché le condizioni igienico-sanitarie come abbiamo potuto vedere noi e come si vede dalle fotografie erano veramente disperate insomma. E quindi soprattutto nei giorni precedenti al nostro arrivo c'erano stati diversi scontri tra le forze di polizia presenti nel territorio che presidiano in maniera molto efficace il territorio e i profughi. Quando siamo arrivati noi era in atto uno sgombero soprattutto della parte sud per cui nell'insediamento erano presenti profughi, erano presenti le forze di polizia e le forze di polizia contenevano i profughi in maniera tale da permettere la distruzione e diciamo la pulizia di quella zona che doveva essere oggetto di sgombero. Ecco, l'ho lasciata parlare anche perché nel frattempo le immagini commentavano un po' le parole che lei stava dicendo e mostravano tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo visto la casa del dentista, l'ufficio legale, abbiamo visto anche le immagini del suo collega Alessio che incontrava e che cercava di stringere anche delle relazioni con i bambini, con i ragazzini e poi appunto tanti volti segnati dal dolore e dalla fatica e poi questi dei bambini. Tutto un miscuglio di emozioni, continuo e veloce perché poi in un paio di giorni avete fatto il giro di mezzo pianeta che cerca casa in Europa sostanzialmente. Assolutamente sì. Parlo delle mie emozioni principalmente. Finché eravamo all'interno del campo eravamo un po' preoccupati della situazione perché non abbiamo passato grossissimi rischi però c'era sempre da stare attenti. Mi fermo solo un secondo per dire che Stefano e Alessio sono due fotografi appassionati di fotografia ma non hanno niente a che vedere né con associazioni di rifugiati o con esperienze di reportage così intenso. Così da semplici cittadini, Stefano Zecco è un veterinario, Alessio Boscolo che incontreremo poi è un vigile del fuoco hanno sentito come un richiamo per andare a vedere coi propri occhi quello che succedeva. Un'esperienza proprio in prima persona ed è questo che la rende anche parecchio particolare. perché devo dire che ci sono tante le associazioni che magari si sono occupate dei rifugiati o che hanno voluto portare la loro testimonianza di solidarietà oppure anche al contrario invece chiedendo una sistemazione della situazione in senso più rigoroso. Però da semplici cittadini partire, andare in un luogo dove le forze di polizia comunque mandavano i lacrimogeni e uscivano coi cannoni ad acqua non è una cosa da tutti. In effetti è stata una piccola scommessa, all'inizio abbiamo avuto qualche problema in quanto in alcuni punti del campo non ci hanno lasciato entrare le forze di polizia sono decisamente rigorose, si tratta di nuclei anti sommossa quindi sono specializzati. In altre zone invece siamo riusciti a entrare liberamente e quindi in altre zone ancora chiedendo il permesso alle associazioni umanitarie che gestivano il campo ci hanno permesso di entrare e di scattare fotografie in assoluta tranquillità. E anche lì è stato molto interessante, infatti molte delle foto dei bambini che ha fatto soprattutto Alessio sono state fatte in questo campo dove la situazione era decisamente più vivibile rispetto a quella del jungle. Sto parlando di un campo che è vicino a Dunkerque che è a circa 30 km dove siamo entrati appunto per fare le nostre fotografie. E' sicuramente bella, la jungle è famosa perché era autogestita fuori da ogni controllo e ovviamente è un luogo anche abusivo sostanzialmente mentre probabilmente questo campo di cui parlate e dove avete avuto accesso era regolamentato dal... Sì, da quello che siamo riusciti a capire era organizzato dalla municipalità e gestito da un'associazione umanitaria che è famosa nel mondo che è Medici in San Fronte. Senta, che cos'è che non capiamo da qui secondo lei? della vicenda Profughi dopo che ha fatto un'esperienza di questo tipo? Allora, paradossalmente è stato molto più facile anche se in realtà è stato difficile entrare dentro questi luoghi e scattare delle foto rispetto al meccanismo di elaborazione di tutto quello che abbiamo vissuto in quei due giorni. Non siamo stati gli unici a essere entrati là dentro ad aver scattato delle fotografie però credo che pochi non professionisti dell'informazione siano entrati lì a rendersi conto di persona della situazione. The Jungle è un esempio di malgestione, se così possiamo dire della movimentazione di queste persone che hanno un unico denominatore comune scappano da paesi dove c'è guerra dove c'è terrorismo, dove le condizioni di vita non sono accettabili per loro, per le moglie, per le famiglie e quindi cercano un posto migliore dove andare a vivere e si sobbarcano migliaia di chilometri per arrivare in posti come Calais Ma questo è un posto migliore dove andare a vivere? No, non lo è Ma forse sì perché non c'è il pericolo di venire uccisi da faide o da situazioni di guerra molto probabilmente non lo è dal punto di vista igienico-sanitario Abbiamo visto adesso un giovane che baciava la bandiera afghana credo sia questa foto che vediamo qui Come dire, vorrei tornare a casa? Assolutamente sì Diciamo che, come ha detto lei prima ci sono moltissime persone là dentro non si riesce mai a capire qual è la cifra ufficiale perché c'è un continuo movimento di persone però gli ultimi dati parlano di un numero variabile tra 3.500 e 5.000 unità e dentro questa città, come giustamente ha detto troviamo un po' di tutto troviamo persone che vogliono andare in Inghilterra perché probabilmente vengono anche dai paesi che originariamente erano legati all'Inghilterra e ci sono magari persone che vorrebbero ritornare a casa ma che comunque si sono dovuti muovere per motivi di vita E come vi vedevano loro? perché anche il rapporto con queste persone magari a sentirsi fotografate, un po' violate anche noi in una situazione che comunque è di degrado in quel momento della loro vita che tipo di relazioni si sono create? Positive, negative? Anche lì variabili sia con loro che con l'associazione umanitaria qualche associazione umanitaria ci ha imposto di non fare fotografie durante il loro lavoro perché noi cercavamo di fotografare il più possibile cioè di dare un'immagine più realistica possibile soprattutto priva di condizionamenti Qualche profugo Le associazioni umanitarie cose che non volevano che mostrassi? Non volevano che mostrassimo i loghi non volevano che mostrassimo loro mentre davano assistenza perché ricordo in particolare un dialogo dove una volontaria ci ha criticato perché eravamo delle specie di sanguissughe rispetto a quella che era la situazione contingente Ma non era quello che volevate fare? No, assolutamente no No, noi volevamo renderci conto di persona di quello che stava succedendo e volevamo portare a casa un reperto di informazione che fosse il più realistico possibile Tante volte l'informazione viene vista come un intruso è una cosa abbastanza comune Nelle situazioni invece io credo che sia sempre importante mostrare, far vedere le cose belle e le cose brutte certo con il riguardo verso le persone e le situazioni più tragiche Me ne sono reso conto anche io in questa occasione che queste cose vanno fatte vedere perché magari non si può fare niente Sì, alla fine ci sono state solo l'associazione dei rifugiati gli attivisti cioè chi è andato nelle jungle alla fine è difficile trovare persone comuni che non hanno pregiudizi mentali o per partito preso sono già da una parte o l'altra della situazione Certo Porsi in uno stato quasi terzo come dovrebbe fare un giornalista che è quello che avete fatto voi con questo reportage ti fa vedere le cose come stanno cioè almeno ci si prova insomma Certo E' quello che abbiamo timidamente e umilmente provato a fare noi Ma no, io devo dire che le stiamo vedendo un po' una dietro l'altra queste fotografie sono molto significative e molto molto belle quindi devo dire che il battesimo del reporter Grazie Grazie molto È stato molto guarda abbiamo anche la fotografia del battesimo del reporter che sta ritraendo proprio lei è stato molto bello Adesso di tutto questo materiale che cosa avete intenzione di farne? Beh, allora abbiamo deciso di Quante foto avete intanto? Ma io ne ho fatte 750 Alessio ne ha fatta il doppio circa quindi abbiamo un grande bagaglio di fotografie insomma e l'abbiamo fatta vedere al circolo è stato molto apprezzato poi ultimamente abbiamo fatto giusto un abbiamo partecipato a un gemellaggio con un circolo fotografico di una cittadina francese del sud della Francia Saint-Marcelain e abbiamo fatto vedere il filmato che Alessio lo ammetto ha preparato Dopo quando tra pochissimo sarà con noi appunto Alessio Bosco lo mostreremo anche noi il filmato è stato molto apprezzato e non dico che li abbia scossi però li ha molto incuriositi sono venuti a chiederci come l'avevamo fatto come non l'avevamo fatto poi ci hanno fatto segno complimenti siamo stati bravi insomma quindi anche loro probabilmente non ricevono un'informazione completa e scevra da condizionamento insomma Dopo questa esperienza avete già in calendario qualche altra qualche altra avventura? Quando siamo tornati avevamo espresso la volontà di andare di proseguire in questo percorso per appunto per approfondire la problematica relativa ai rifugiati in Europa ci sarebbe piaciuto andare in Grecia ma abbiamo anche un lavoro quindi insomma per il momento stiamo a casa Dobbiamo fermarci adesso per una piccola pausa dopo di che sarà con noi Alessio Bosco a raccontarci altre cose di questo particolare viaggio grazie a Stefano Zecco grazie a lei e in bocca al lupo per la carriera di reporter e anche per la prossima avventura grazie moltissimo noi ci vediamo tra due minuti a tra poco